Sta riscontrando un grande successo il nuovo servizio messo a disposizione dal quotidiano online La Voce del Trentino. Si chiama Sportello di Sostegno e offre un servizio di ascolto dedicato a chi non ha una voce o a chi, soprattutto, ha paura di averne una. Nasce da un'idea di Giampiero Robbi, attivista del sociale, e di Gabriella Maffioletti, ex consigliere comunale di Trento e delegata a Giantum. E si prefigge lo scopo di educare e sostenere le categorie più deboli della società, come disabili, minori e anziani. Riprendendo le loro parole, un grande orecchio dotato di cuore, esperienza e passione, e un navigatore nel labirinto della giungla dei servizi primari. Una malattia ai più sconosciuta e che colpisce un bambino ogni 2700 nati. Attacca i polmoni e ruba ai pazienti un po' di fiato alla volta. L'aspettativa di vita non supera i 30 anni. Stiamo parlando della fibrosi cistica. I portatori sani della malattia sono circa uno ogni 25 e non hanno alcun sintomo, ma se entrambi i genitori sono portatori, esiste una possibilità su quattro che il bambino sia malato. Un farmaco sta ridando la speranza per uno stile di vita migliore, ma la strada è ancora lunga. Siamo andati a trovare l'Associazione Trentina che opera sul territorio. La linea a Daniela Leoni. L'Associazione Trentina Fibrosi Cistica si impegna da diversi anni con attività sociali, come lo scorso settembre che si è tenuta la quarta edizione della 24 Ore di Solidarietà a Trento. Queste attività sono molto importanti per la sensibilizzazione e la conoscenza di questa malattia genetica, riscontrando un effetto positivo nelle comunità. L'Associazione consiglia, inoltre, di sottoporsi a screening come il test genetico, tenendo sotto controllo la diffusione della malattia tra la popolazione. In quasi tutti gli ospedali italiani, i neonati, grazie al test del sudore, sono controllati precocemente, in modo da garantire una risposta efficace alle terapie disponibili. Questo strumento dà la possibilità, inoltre, di essere abbinato ad indagini in grado di ridurre il numero di nati affetti da questa malattia. Di fatti, i dati sono positivi. I nuovi casi di nati con fibrosi e cistica sono diminuiti, da 4 ogni 10.000 a 1 ogni 10.000. Lo screening genetico resta quindi la strategia più efficace per contrastare e diminuire i casi di questa malattia nel corso dei prossimi anni. L'Associazione Trentina Fibrosi e Cistica è disponibile ad accogliere nuovi volontari, presso la sede di Gardolo in via Soprassasso. Siamo in compagnia di Bruna Cainelli, siamo qui per farle alcune domande sull'Associazione Trentina Fibrosi e Cistica. Abbiamo visto che avete fatto molte attività, l'associazione si è impegnata molto per la sensibilizzazione di questa malattia, ma che finalità ha questa associazione, perché è nata e come stanno andando le cose? L'associazione Trentina Fibrosi e Cistica è nata nel 2005 per iniziativa di alcuni genitori e amici sostenitori. Le finalità principali sono sensibilizzare verso la fibrosi e cistica, in modo che più persone possibili sappiano che esiste purtroppo questa malattia, essere vicine ai pazienti e alle loro famiglie per aiutarli nel cammino e nei contatti con le istituzioni pubbliche e sostenere il centro provinciale fibrosi e cistica presso l'ospedale Santa Maria del Carmene di Rovereto. Infine sosteniamo dei progetti di ricerca scientifica finalizzati sia a trovare delle cure per fronteggiare le infezioni per questi pazienti, sia per cercare una cura risolutiva. Avete progetti in corso per i prossimi anni? Come si state impegnando? Noi dal 2011 stiamo sostenendo con un contributo delle borse di studio presso l'ospedale Santa Maria del Carmene per il reparto fibrosi e cistica e sosteniamo delle borse di studio per una fisioterapista, per l'infermiera e per la psicologa. Oltre ad aver donato, grazie all'aiuto di chi partecipa alle manifestazioni e a delle ditte privati con le loro donazioni, abbiamo potuto donare degli strumenti elettromedicali utili per assicurare una migliore assistenza ai pazienti. Abbiamo adottato circa 16 progetti di ricerca scientifica presso la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica di Verona e al momento ne abbiamo in corso due. Uno presso la Fondazione che verte sull'utilità dello screening del portatore sano di fibrosi cistica in maniera che qualsiasi copia voglia intenda avere un figlio possa provvedere a fare il test servito dal servizio nazionale. Inoltre abbiamo un corso dall'anno scorso, un progetto di ricerca presso il Cibio dell'Università di Trento il quale è in collaborazione sempre con l'ospedale Centro Fibrosi Cistica di Rovereto studiano il genoma batterico finalizzato a una terapia personalizzata ad ogni paziente per far corso alle infezioni polmonari che purtroppo sono molto frequenti e invasive che affetto da fibrosi cistica. Secondo voi la sanità dovrebbe investire di più su misure preventive, con terapie anche più efficaci? Noi è un periodo da tempo che cerchiamo di sensibilizzare oltre l'opinione pubblica affinché sappia che esiste questa malattia e anche la sanità trentina affinché provveda e autorizzi una norma affinché le coppie possano fare questo test per sapere se rischiano di avere un figlio con fibrosi cistica. Ricordiamo che in Italia ci sono circa 3 milioni di portatori sani di fibrosi cistica e in una coppia devono essere tutti e due portatori sani affinché ci sia la probabilità, una su quattro, di avere un figlio malato di fibrosi cistica. Pertanto qualora venisse approvata questa norma molto probabilmente sarà sufficiente che solo uno della coppia esegua il test perché qualora risultasse negativo non esiste più il rischio di avere un figlio malato alla più semmai è solo portatore sano. Da Gardolo e Daniela Leoni a te in studio Francesca. E per oggi siamo arrivati al termine. Il prossimo appuntamento con TG Socialmente è fra 15 giorni. Nel frattempo chiunque voglia scrivere, collaborare con noi, proporre nuove idee o format può farlo contattandoci a redazione chiocciolatelecuoretrentino.it e per oggi siamo arrivati al termine. Il prossimo appuntamento con TG Socialmente è un po' di più 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 di più. A presto!